Buonasera, buonasera, ben ritrovati insieme a noi aggiornamenti della situazione attuale. Non solo per il coronavirus ma soprattutto per il dopo, quindi per questa fase 3, come la stiamo affrontando, verso la normalità, come abbiamo intitolato. Come sempre c'è Jacopo Casoni nell'altro studio, buonasera Jacopo. Buonasera a te e a tutti. Allora, poi tra poco ci collegheremo con l'assessore ai trasporti, Claudia Terzi, e con lei parleremo anche della idea di Fontana che ha suscitato un po' di caos quando ha detto o sarà obbligatorio in Lombardia portare la mascherina fino a quando non ci sarà il vaccino. E siccome non sappiamo quando ci sarà il vaccino, questo ovviamente ha causato qualche perplessità, anche perché andiamo verso la stagione molto calda. Ma prima di parlare di quello, intanto vi invito a mandarci le vostre impressioni proprio su questo argomento. Siete d'accordo nell'obbligo della mascherina fino a quando non ci sarà il vaccino. Ma intanto vediamo i dati, come al solito, i dati della giornata che seguono il solito trend. Il solito trend perché abbiamo sempre un 2,1%, il rapporto tra i tamponi effettuati, oggi sono davvero tantissimi, 19.389, e il numero dei positivi riscontrati che sono 402. Quindi la percentuale è 2,1. I deceduti sono 21, siamo nella linea degli ultimi quattro giorni. La terapia intensiva si svuota, oggi sono uscite 5 persone. I ricoverati però sono aumentati di 6. Milano provincia 99 casi positivi, Milano città 52 casi positivi. Quello che ci ha spiegato l'altra volta il professor Pregliasco, Jacopo, che vorrei ripetere perché secondo me è importante, è chi sono questi nuovi positivi. No, perché noi l'altra volta gli abbiamo chiesto. Ma questi positivi sono persone che vanno al supermercato e si infettano? Chi sono? Lui ci ha spiegato che fondamentalmente sono, la maggior parte, persone asintomatiche che fanno il test sierologico e che vengono fuori, che viene fuori, che hanno il Covid. Una buona parte sono questi. Poi ci sono ancora degli operatori sanitari, mi pare, no Jacopo? Ci sono anche quelli che adesso vengono testati, però anche quelli sono asintomatici, perché se no se ne sarebbero accorti prima che erano ammalati. Ah beh, certo. No, no, quello sì, quello assolutamente. Fanno i test e poi i tamponi a tutti gli infermieri, i dottori, i medici, tutto il personale sanitario. Ovviamente chi aveva sintomi era già a casa in quarantena. E quindi nuovi, diciamo, anche il professor Galli del Sacco dice questa è la coda, è la coda della prima ondata. Quindi tutto questo ci fa pensare che stiamo andando verso il meglio, ecco, i numeri e anche le spiegazioni dei numeri. Però, ripeto, il governatore Lombardo se n'è uscito con questa affermazione che ci fa pensare che forse non siamo così fuori dal tunnel, come qualcuno invece insiste nel dire. Facciamo così, mandiamo la fascia e poi credo che sia già pronta. No, la salutiamo allora? Salutiamo la sensore Terzi? Buongiorno, buonasera. Buonasera, assessore. Allora, io devo mandare la fascia, però ti chiedo subito, prima a bruciapelo, questa cosa della mascherina che Fontana dice sarà obbligatoria fino a quando non ci sarà il vaccino. Era la detta così o state pensando proprio di metterlo nell'ordinanza, nella prossima? Beh, guarda, io ti cito solo il professor Nemuzzi, che non è l'ultimo arrivato, che non è un politico, come può essere il presidente Fontana, che dice che tre sono le questioni. La mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione costante. Direi che magari non fino al vaccino, fino al vaccino la sicurezza totale, ma fino a che almeno non possiamo considerarci tutti sicuri e temo che questo non sia così prevedibile nell'immediato. Quindi soprattutto nei luoghi affollati e nei luoghi chiusi, no? Nei luoghi pubblici dove c'è possibilità di contatto e abbiamo visto dove c'è la possibilità quindi di essere contagiati. L'obiettivo è quello non solo di non far diffondere, ma soprattutto di non far ripetere situazioni come i focolai che purtroppo abbiamo conosciuto e che abbiamo visto in Lombardia essere difficili da contenere. Certo, la prudenza assolutamente. Anche se Zangrillo dice che il virus, la carica virale sia abbassata, però c'è ancora, ecco, questo è importante. Però si diffonde e si arriva su una persona anziana che ha già altre patologie e che quindi è già, come posso dire, provata fisicamente, rischiamo che diventi, insomma, anche se con una carica contenuta diventi comunque magari non letale, ma sicuramente molto grave. Quindi l'obiettivo è ovviamente quello di arrivare a contagi zero. Per farlo lo sappiamo e per assicurarlo in futuro il vaccino sembra essere, ma anche per altre patologie, l'unica possibilità. Quindi quello che dobbiamo fare nel frattempo è contenere il più possibile, andare avanti con questi comportamenti che ci hanno permesso adesso di riaprire e di avere dei dati che non sono lo zero, ma che comunque sono incoraggianti. Però ecco, io quello che non capisco è, nei luoghi al coperto, nei luoghi affollati, siamo tutti d'accordo, ma la domanda è se l'obbligo resterà anche all'aperto, perché la Lombardia ha questa caratteristica diversa dalle altre regioni, che noi in strada dobbiamo mettere la mascherina. Da quello che sai tu, dopo il 15 sarà ancora così? Sì, oppure in strada no? No, no, sarà ancora così, perché ripeto, comunque la Lombardia ha vissuto una situazione diversa dalle altre, continua a vivere una situazione diversa. Perfetto. Ora, la sicurezza sanitaria prima di ogni altra cosa. Va bene. Io guardo, io sinceramente sono d'accordo. Anche perché più stiamo, diciamo, alla gente di stare attenta, più sta attenta. Dire togliti la mascherina potrebbe essere preso come un liberi tutti, ma almeno io la penso così. Esatto, è una questione anche mentale. Cioè, abbandoniamo la mascherina e allora ci pare che ormai sia superato tutto, quando in realtà così non è. Certo. Va bene, resta con noi due minuti di pubblicità e poi parliamo di biciclette, di treni, di trasporti, di monopattini. Tra poco. Va bene. Allora, siamo in diretta collegati con l'assessore Claudia Terzi che ci ha confermato l'intenzione del governatore Fontana dell'obbligo dell'uso della mascherina anche dopo il 15 di giugno. Quindi magari non fino a quando ci sarà il vaccino, ma in ogni caso fino a quando non saremo un po' più sicuri che questo contagio si è molto, molto, molto rallentato. Corretto, assessore? Assolutamente sì. Quindi chi ha fatto le scorte di mascherine come me ha fatto bene. È stato prudente. Esatto. Chi ha fatto come te è stato particolarmente prudente. Quindi esatto. Quindi il mio cassetto pieno di mascherine ha un perché. Beh, insomma, meglio le mascherine del passaporto sanitario, no? Sì. Sì, anche perché non c'è il passaporto sanitario, non esiste. È un po' complesso. Oggi si citava, sentivo che citavano le Canarie e come esempio per il passaporto sanitario il problema nostro è che noi abbiamo un'organizzazione un po' diversa. Quindi sarebbe un po' difficile da ottenere. No, ma anche perché... No, le mascherine veramente, a parte gli scherzi. No, ma anche perché il governatore della Sicilia, no? O della Sardegna, dicono, venite qua sani, ma io posso avere il test e infettarmi in aeroporto? Questa è una roba che non... Che è la questione che abbiamo sempre cercato di spiegare alla gente quando ovviamente in un momento di grande difficoltà tutti chiedevano il tampone, pensando che il tampone potesse essere insomma la soluzione di tutti i mali, o meglio il tampone negativo o addirittura adesso il test sierologico negativo possa darti la patente di immunità e possa, come posso dire, autorizzarti a tenere comportamenti senza sicurezza. Quello che hai detto tu è il fondamentale, cioè io posso farlo oggi e infettarmi domani oppure essere in quella fase di incubazione per cui manco il test sierologico riesce a beccare che sto sviluppando il virus. Quindi veramente è una malattia tale, con caratteristiche tali per cui non c'è nulla di certo che ci possa dare appunto la patente di immunità. Però resta il fatto che se uno ha la curiosità di scoprire se l'ha fatto oppure no, è giusto che se la soddisfi questa curiosità. Io lo vado a fare il test. Certo, con la precisazione che però poi se il test sierologico risulta positivo tu sei ovviamente obbligato a stare in casa finché non fai il tampone e finché non hai il risultato del tampone e se è negativo puoi uscire, in caso contrario ovviamente poi si è sottoposta a quarantena. Certo, assolutamente, questo lo ripetiamo tutte le volte. Allora passiamo al campo tuo, cioè ai trasporti. Oggi la consigliere Elisabetta Strada, è anche il Partito Democratico, ha fatto questa richiesta di perché Trenord non trasportano le biciclette come facevano prima visto che bisogna in qualche modo incentivare la nuova mobilità per evitare che tutti affollino i mezzi pubblici, perché Trenord non trasporta le biciclette. Noi abbiamo due foto che possiamo far vedere. Eccola qua. Tu non so se stai vedendo Telenova in questo momento. Adesso mi volto e vi guardo. Questa è una che fa vedere che cosa? Un ammasso di biciclette. Questa è la situazione di alcuni treni, situazione che si ripete ormai da tempo, da qualche giorno. Ovviamente è aumentata in conseguenza delle varie aperture, quindi sicuramente non era così all'inizio di maggio, ma adesso questa è la situazione. I treni, soprattutto in alcuni orari, soprattutto in alcune tratte, sono presi d'assalto dai riders, che capisco fanno il loro lavoro, ma chi li utilizza appunto anche per trasportare il mezzo. Ora, normalmente sui treni possono starci massimo 5 biciclette, queste non sono 5 biciclette, in un momento in cui c'è un contingentamento fortissimo del numero dei posti che si possono mettere a disposizione, sempre per la questione sanitaria. Quindi il 50% dei seduti, massimo 15% di quelli. Questi numeri e l'attenzione alla necessità di stare lontani, l'attenzione a tutta la questione sanitaria, non va d'accordo con le fotografie che avete visto. Quindi abbiamo provato. Trenord ha più volte cercato di intervenire con il personale viaggiante, che però non può mettersi fisicamente a impedire ai riders di salire, o fisicamente impedire ai riders di salire ancora di più con la propria bicicletta. Quindi ovviamente, nonostante tutti i tentativi, nonostante tutti i tentativi bonari, si è arrivati e sono arrivati quelli di Trenord a questa posizione piuttosto forte, lasciando la possibilità di portare le biciclette pieghevoli o quelle che occupano poco spazio. Ma non sicuramente una bicicletta come questa. Quindi non è una scelta che va contro l'idea di mobilità sostenibile. Io ricordo che i nuovi treni li abbiamo fatti apposta, con un numero importante di posti per le biciclette, ma addirittura con i posti per allocare le biciclette. Sì, sì, le rastrelliere, certo. Cioè ci sono, sui nuovi treni tu attaccherai la bicicletta mentre viaggi in treno ricarichi la bici. Quindi ha veramente l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla mobilità mista. Cioè il treno e il primo e l'ultimo miglio lo faccio con un mezzo come la bicicletta, il monopattino, è assolutamente sempre presente. Il problema è che quando c'è un abuso, se chi ne abusa non la capisce con le buone, purtroppo poi ci vanno di mezzo anche quelli che invece fino ad oggi si erano comportati magari più correttamente. Però queste foto, guardate, che sono due foto, ma non sono due foto prese, come posso dire, strumentalmente prese per giustificare la cosa. Questi atteggiamenti si ripetono sistematicamente da molti giorni. Certo. E rendono impossibile al personale viaggiante, ma anche agli utenti che non usano la bicicletta, di vivere gli spazi come vanno vissuti, cioè in sicurezza. E questo è molto più grave del fatto che purtroppo per alcuni bisogna che tutti rinuncino all'idea di portarsi la bicicletta, se non quella pieghevone o il monopattino o altri mezzi di trasporto diversi dal treno o dall'auto. Certo. Jacopo, su questo? Ma in realtà è una cosa che si era già vista in periodo di lockdown, prima forse del lockdown, oppure appena usciti su ATM. Perché io ricordo un video di una metropolitana che arrivava e il macchinista, tra virgolette, che diceva ma guarda qua quanti sono e c'era una marea di riders. Però il problema vero è che alla fine della fiera, lo diceva anche l'assessore, questi lavorano, uno dice dovrebbero fare tutto a piedi, sì però tutto in bici. Il problema è che oggettivamente sia per le condizioni in cui vengono fatti lavorare, sia per qualche volta il cattivo tempo e altre cose, è anche comprensibile che facciano scelte di un altro tipo. Purtroppo in questo momento non è possibile giustificare o autorizzare questo tipo di comportamento. Perché ripeto, un numero così importante di biciclette sul treno comporta ovviamente, porta ad una riduzione forte degli spazi necessari. Quando siamo in un momento in cui i posti a sedere sono dimezzati, la gente inizia a tornare a livelli, non dico quali di pre-Covid, ma comunque importanti, perché abbiamo degli aumenti tutti i giorni, veramente importanti, è un 25% rispetto al giorno prima. Quindi i posti a sedere ci servono tutti. Ma scusa, assessore, non possiamo rinunciare a meno uno, nemmeno se si tratta di andare incontro ai riders. Però scusa, assessore, qua mi stanno dicendo perché non facciamo dei vagoni solo per le biciclette. C'è un vagone in più tutto carico di biciclette. Per quello che mi dicevo prima, noi abbiamo gli stessi treni con metà dei posti, con la stessa gente in prospettiva che deve usare i treni. A me servono tutti i vagoni per far stare in sicurezza la gente. Cioè non ne puoi dedicare uno solo alle biciclette? No, anche perché sarebbe difficile. Dovremmo farlo per ogni treno, il che vuol dire che dovremmo allungare ogni treno di un vagone e sottrarre il vagone alla disponibilità dell'utente che invece ovviamente deve sedersi. Oltre al fatto che c'è una questione di sicurezza, cioè abbassare 20 biciclette come le avete viste comporta proprio problemi di sicurezza all'interno del treno, a prescindere quasi dalla capienza del treno. Ma tante biciclette così, abbassate non ci possono stare per improvvisa la necessità di passare, la necessità di liberare gli spazi in urgenza. Capite bene che è compatibile. È per quello che c'è un contingentamento dei numeri delle biciclette sui treni. Non per rompere le scatole, anzi, è proprio per la sicurezza anche di tutti i passeggeri. Senti, invece adesso a Milano c'è molto, sto diventando, tu non sei di Milano, però ci vieni a lavorare tutti i giorni, quindi la frequenti, diciamo così. Adesso è molto di... Esatto. È molto di moda Milano diventato il monopattino, c'è anche lo sharing del monopattino ed è un modo dolce, ecologico di circolare per la città. Tu cosa ne pensi dell'uso del monopattino in città? Beh, guarda, allora, io sono molto favorevole a qualsiasi tipo di mobilità che si possa definire dolce. io ricordo sempre ho fatto l'assessore all'ambiente quindi figuratevi se non vedo di buon occhio tutto ciò che sostituisce magari nell'ultimo o nel primo miglio la mobilità tradizionale. Con due riflessioni. Il primo che è molto differente il monopattino dal monopattino elettrico poiché il monopattino elettrico che è quello che più frequentemente si vede in giro si avvicina non dico un motorino di quelli che usavamo noi quando eravamo giovani che quindi avevano prestazioni diverse da quelli attuali ma di fatto è molto più di un monopattino e molto più di una bicicletta con tutte le conseguenze del caso. È il motivo per cui oltre alla tipica lungaggine italiana ci si è messo veramente molto a modificare il codice della strada per fare in modo di legittimare l'utilizzo proprio della strada da parte di questi mezzi alternativi. Ricordo anche che in Francia sono stati i primi ad aprire all'utilizzo dei monopattini soprattutto elettrici e soprattutto sulla strada sono poi dovuti tornare indietro soprattutto a Parigi poiché sembra che l'utilizzo in numero importante crei qualche problema non solo di sicurezza perché ovviamente questi sono come posso dire mezzi che sono particolarmente facili da guidare che si infilano in ogni dove e quindi la compatibilità con il traffico veicolare ma anche con il traffico pedonale e delle biciclette non è sempre così facile. In un mondo ideale dovremmo avere la strada una parte della carreggiata destinata alla strada una parte della carreggiata destinata alle bici e una parte a questi mezzi alternativi che siano monopattini con la spinta manuale cioè con la fatica e però è molto difficile realizzare non è possibile nelle nostre città ma anche riusciamo a fare le piste ciclabili figuriamoci se dobbiamo fare pure l'altra pista cioè quella per i monopattini è difficile ecco bisogna fare attenzione io li vedo spesso e volentieri sulle piste ciclabili e va bene altre volte che le stracioni zigzagano tra le auto e altre volte addirittura sui marciapiedi quello sui marciapiedi è inaccettabile secondo me perché è veramente molto pericoloso per chi guida il monopattino ma soprattutto per il pedone che se li vede arrivare insomma ad una certa velocità perché i monopattini elettrici vanno e vanno veloci certo Jacopo la questione del monopattino però volevo chiedere una cosa lei diceva non va bene che stiano sul marciapiede ci sono le ciclabili c'è la strada non si può fare un certo tipo di ragionamento ma il motivo qual è perché non si riesce a fare se in realtà in altri posti si è fatto come leggevo ad esempio che in Francia o non mi ricordo più dov'è che era Adriana il messaggio che hai mandato che ci sono i vagoni solo per le dici in Francia no in Germania Olanda e Francia Germania Olanda e Francia cioè ci sono delle cose che qua non ho capito perché non riusciamo a fare assessore beh guarda allora guardate vi do solo questi due numeri ieri ne parlavo con la mia collega del Veneto e mi diceva guarda io i pendolari che sono stressati perché sono loro hanno qualcosa come 150.000 viaggiatori in un'epoca normale pre-covid e 700 treni al giorno perfetto dico così potremmo pensare di avere dei vagoni o di mettere dei vagoni addirittura di treni a disposizione noi abbiamo 847.000 pendolari su 2.200 treni al giorno fate le proporzioni è solo una questione di numeri è il senso che dipende quant'è il servizio certo ripeto fossimo in una situazione normale cosa che abbiamo fatto abbiamo scelto per il futuro di puntare tutto su treni che prendano in considerazione queste nuove esigenze anche perché soprattutto su Milano è molto diffusa l'idea del uso il treno ma per l'ultimo miglio non uso nemmeno gli altri mezzi pubblici uso la bicicletta tant'è che è tipico vedere i pendolari lunedì mattina arrivare con la bici e il venerdì tornare a casa con la bici quindi non fare nemmeno avanti e indietro tutti i giorni è per questo che per esempio in tante stazioni sono state realizzate le cosiddette velostazioni o addirittura i posti dove lasciare la bicicletta più che riparata in un posto sicuro dove tu la puoi agganciare senza preoccuparti poi di non trovarla la mattina dopo quindi è certo un progetto che stiamo portando avanti anche perché la sensibilità in questo senso si è molto alzata negli ultimi anni quindi sicuramente va dipende anche dal momento normale in un momento come questo onestamente perdonate la brutalità non può essere la priorità è sicuramente una cosa importante ma se devo scegliere tra rendere disponibili come posso dire i posti a sedere agli utenti o le biciclette non posso che scegliere i primi secondo fino ad oggi e fino a che non c'è stato l'abuso dei riders ripeto il problema non si era posto l'ultima domanda assessore finché è stato possibile l'abbiamo sostenuto no no chiaro qua mi scrivono un signore una signora non lo so che abita a Mandello e dice sono stati aboliti tutti i treni della mattina sia verso Lecco sia verso Comico senza alcun avviso e quindi lo segnala non so mi torna strano nel senso che su quella tratta ci sono dei lavori in corso lavori c'è stata una riduzione una riorganizzazione dei treni perché ovviamente i treni che erano prettamente utilizzati dagli studenti sono andati in soccorso di altre direttrici dove non ci sono normalmente gli studenti ma ci sono tanti pendolari del lavoro quindi ci sono andati è vero in soccorso c'è un problema di lavori c'è un blocco obbligatorio di RFI di almeno tre ore la mattina su una parte di quella tratta che ci ha reso ovviamente obbligatorio riorganizzare tutto il servizio quindi allora sarà per quello che vuol dire che poi il servizio funzionerà meglio però nel frattempo quindi è temporaneo essendo bloccata la linea intera diventa difficile far girare i treni dopo una certa ora e fino a un'altra dalle 9 e mezza alle 12 e mezza una cosa del genere una cosa sola per chiudere proprio tornando a dove abbiamo cominciato le mascherine è possibile assessore pensare a un momento in cui si deciderà che le mascherine all'aperto si possono evitare si devono mettere solo nei posti chiusi prima di arrivare a toglierle definitivamente quindi se non è il 15 giugno poco più avanti si potrà girare almeno all'aperto senza nei parchi oppure andiamo avanti dritti assolutamente no no non c'è non c'è nessuna posizione come posso dire preconcetta e soprattutto fissa indiscutibile abbiamo visto che il mondo cambia di settimana in settimana se non di giorno in giorno da quando ha il famoso 22 ormai di febbraio quindi tutto è in divenire allo stato attuale finché poi il comitato tecnico scientifico non ci dirà che sostanzialmente possiamo un po' abbassare la guardia devo dire che questa quella della mascherina rimane un obbligo a tutela veramente della salute della salute di tutti ora dovranno essere così bravi da rispettare sempre il metro da come posso dire avere tutti quegli accorgimenti non so se oggi possiamo considerare questa cosa come scontata ecco va bene grazie assessore adesso poi noi ci colleghiamo con un medico e chiediamo anche il parere appunto del medico su questo proposito speriamo di sconfessi l'assessore poi te lo dico va bene grazie assessore arrivederci buon lavoro buona serata a tutti va bene allora mandiamo la pubblicità e poi appunto ci colleghiamo col dottor Giraudo gli chiediamo come sta andando negli ospedali visto che abbiamo visto che i ricoveri diminuiscono diminuiscono si svuotano le terapie intensive chiediamo a lui chiediamo un parere sulla carica virale abbassata e sull'uso della mascherina tra poco rieccoci in diretta siamo collegati col dottor Davide Giraudo buonasera urologo ma che si è occupato tanto di covid lavora all'ospedale di Melegnano buonasera ben ritrovato buonasera allora prima di chiederti del covid come va ti chiedo della mascherina perché il governatore Fontana ha detto che vuole rendere lasciare obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto anche dopo il 15 di giugno volevo sapere dal punto di vista tecnico medico tuo qual è non politico non voglio sapere tecnicamente penso che non ci siano molti dubbi dal punto di vista medico cioè nella protezione fondamentale noi siamo convinti che sia stata una delle armi vincenti nel limitare la diffusione del contagio sapete che la mascherina chirurgica di fatto non ha una grossa valenza anzi quasi nulla sulla filtrazione in entrata però abbatte i droplets e quindi sicuramente se la indossano tutti i possibili diciamo così infetti asintomatici o sintomatici sicuramente hanno una minor percentuale di diffondere la malattia poi noi in ospedale abbiamo usato le filtranti quelle hanno anche una valenza un valore in filtrazione in entrata e quindi proteggono ancora di più diciamo che l'ottimale sarebbe che ci fossero le filtranti per tutti io ho fatto anche un post qualche tempo fa su facebook dicendo che in realtà è un po' una fake news quella che la filtrante non possa essere utilizzata dalla popolazione e solo dai sanitari addestrati la realtà è che non c'è un grosso approvvigionamento una grossa disponibilità di mascherine filtranti e quindi sono state riservate per l'utilizzo dei sanitari però l'ottimo sarebbe che tutti potessimo avere però scusami possiamo dare un consiglio siccome qualcuno o qualcuna di quelle filtranti cioè l'FP2 o l'EK95 qualcuno ce l'abbiamo secondo me il consiglio di buonsenso sarebbe che se vai in giro o se vai in ufficio dove hai sempre le stesse persone ti metti la chirurgica se vai al supermercato o in mezzo alla Movida o in un ospedale a fare un esame ti metti la FP2 io ragiono così io anche per dirti questo weekend sono andato sul lago e all'aperto non è il caso di utilizzare una filtrante oggettivamente è sprecata ma in un ambiente chiuso sicuramente la filtrante ha un valore di protezione migliore dicevano che la chirurgica è protettiva per gli altri e non per se stessi mentre invece la filtrante protegge anche se stessi sul fatto di continuare ad usarla io sono d'accordo perché finché non siamo a contagio zero e non lo siamo ancora è un dispositivo di protezione per gli altri per se stessi secondo me fondamentale sul discorso del vaccino ti posso dire speriamo che arrivi presto perché non lo sappiamo e quindi però il messaggio è importante ecco senti sì a proposito dei messaggi sulle mascherine mi pare un po' delirante che ogni giorno ne esca uno diverso da quello precedente cioè nel senso adesso è arrivato Brusaferro che si è svegliato una mattina se era lui se non ricordo male era lui che ha detto eh però le mascherine chirurgiche evitiamo di usarle facendo troppe volte il lavaggio la sanificazione eccetera sì poteva dirlo anche due mesi fa perché tanto non è che si è cambiata la mascherina nel frattempo cioè ogni volta ne salta fuori una diversa la gente secondo me è un po' spaesata anche per quello ma perché c'è stata carenza anche di mascherine chirurgiche quindi prima non si poteva dire ma è così è la verità perché in realtà non sono riutilizzabili con le mascherine quindi né le chirurgiche né le filtranti ma le filtranti più di otto ore non due non due quelle di stoffa scusami dottore quelle di stoffa quelle definite di comunità quelle lavabili quelle anche quelle non sono filtranti però proteggono l'altro no? sì fino a un certo punto non del tutto in mancanza di meglio cioè io dico sempre così è la famosa sciarpa di fontana quella più o meno è quella l'idea cioè poco di più è chiaro che se non hai a disposizione le mascherine chirurgiche vanno bene anche quelle perché hanno sicuramente anche quelle un valore di abbattimento dei droplets però è chiaro che non è l'ideale quindi cerchiamo la cosa ottimale sarebbe avere almeno tutti una mascherina chirurgica questo è il minimo abbiamo capito che le nostre scorte servono allora perché allora sentendo Zangrillo sentendo Zangrillo questa carica virale così indebolita non dico che possiamo stare tranquilli ma quasi no cioè Zangrillo dice usa lo studio del professor Clementi che è stato nostro ospite che no che ha preso 100 pazienti a marzo 100 pazienti a maggio la carica virale infinitamente più bassa quindi stiamo tranquilli però tu mi stai dicendo dall'inizio di questo collegamento che non stiamo tranquilli no ma allora secondo me Zangrillo è un clinico un po' come me no e vediamo quello che succede negli ospedali e quindi quello che ha detto è la realtà dei fatti cioè effettivamente clinicamente ha perso di importanza questo virus quindi io non posso dargli torto è chiaro che poi il messaggio deve essere un messaggio comunque di buon senso quindi fin tanto che il virus ancora circola bisogna fare attenzione ma io credo che lui non sia in disaccordo con questo approccio perché è vero la carica virale dallo studio che hanno eseguito perché poi sapete che c'è il discorso dei tamponi è anche difficile fare un'analisi quantitativa perché però sicuramente diciamo così è stato valutato che questa PCR prima per trovare il virus bastava amplificare un tot di volte adesso ne servono 10-20 in più per trovare il virus quindi è chiaro che la carica virale sia abbattuta e c'è una teoria che dice che con una carica virale più bassa c'è il rischio di contrarre un minor rischio di contrarre malattie gravi però siamo ancora nel campo delle ipotesi cioè non c'è ancora la certezza che sia esattamente così quindi io preferisco proteggermi però scusami no no questo sicuramente però tu in ospedale vedi pochissima gente presumo ormai sì sì no no guarda anche oggi ho controllato gli accessi in pronto soccorso c'è qualcuno scusami dottore devo fare una precisazione ho sbagliato io perché ho scritto ospedale di Legnano in realtà l'ospedale di Melegnano quindi no questo per precisare perché compare sotto la tua faccia Legnano non è Legnano ma è Melegnano ogni tanto si sbaglia guarda no ti dicevo controllavo oggi ho controllato gli accessi in pronto soccorso da noi oggettivamente si presentano delle persone con dei sintomi che potrebbero far pensare al covid ma i tamponi attualmente sono negativi cioè quindi sono diciamo tornati delle patologie respiratorie ma con tampone negativo presumibilmente non sono non sono da covid quindi clinicamente la malattia in questo momento è ai minimi termini e lo vedete anche dai dati di questi giorni ma quindi tu sei d'accordo scusami scusami è una cosa importante tu mi stai dicendo lo vedete dai dati quindi tutti i positivi tu concordi sul fatto che i nuovi positivi sono tutti gli asintomatici che fanno il test sierologico gli operatori sanitari cioè non c'è qualcuno che si è infettato sul tram che io sappia dal mio ospedale quello che sto vedendo è che non è così cioè è chiaro che oggi il tampone è un'altra valenza cioè si è tornato a quella diciamo della prevenzione quindi non più della diagnosi cioè fino a un mese fa si faceva solo diagnosi col tampone arrivavano in pronto soccorso che stavano male venivano tamponati covid positivi adesso invece lo utilizziamo di nuovo per un discorso di prevenzione quindi c'è anche un contact tracing di nuovo rispetto a prima cioè la vera valenza del tampone è andare a scovare quelli che potrebbero essere positivi magari perché hanno fatto il sierologico ma non sono più quelli che arrivano in pronto soccorso sono asintomatici certo Jacopo su questo Zangrillo secondo me ha ragione però io per esempio in ospedale continuo a proteggermi ma fai bene certo sul fatto che invece il virus sia meno virulento io continuo a avere dei dubbi io ho la mascherina sempre dietro tu non mi vedi ma io ho la mascherina sempre dietro Jacopo entra tu allora oggi c'era uno studio diciamo così di dati statistici che sottolineava come alla fine quello che dice lei cioè che si cominciano a fare i tamponi si ricominciano a fare i tamponi col contact tracing cercandovi eccetera è vero ma ancora fino a un certo punto nel senso che in Lombardia ogni 5 tamponi ce n'è uno positivo in Veneto ogni 17 ce n'è uno positivo vuol dire che fanno un contact tracing un po' più ampio diciamo così rispetto a quello che facciamo noi però adesso i reagenti se non servono più a voi in ospedale oggettivamente si può cominciare a fare una politica di questo tipo davvero ma secondo me si arriva a questo punto che stai dicendo perché allora noi non è che non li facciamo più perché comunque gli accessi per problemi simili ci sono quindi li facciamo ancora però sono molto minori rispetto a prima quindi si sta spostando il target è chiaro che in Veneto si è spostato prima perché loro il loro focolaio era limitato comunque sono riusciti a limitarlo e quindi è già da tempo che fanno così così come in altre regioni cioè per esempio oggi ho sentito un'amica in Toscana è risultata positiva al sierologico domattina fa immediatamente il tampone cioè hanno delle risposte che però hanno avuto anche dei focolai minori quindi ancora la Lombardia in questo deve non sto dicendo che debba migliorare però man mano che diminuisce sempre di più il contagio sarà naturale spostare il target dei tamponi sempre di più devo dire che oggi i 20.000 tamponi è una delle prime volte che li tocchiamo quindi sembrerebbe che lo stiamo facendo poi bisogna vedere se lo stiamo facendo davvero o meno però sembrerebbe di sì sono veramente tanti cioè io auspico di arrivare in quel momento in cui di nuovo se c'è il sospetto di un sintomo si fa il tampone alla persona sintomatica e anche a tutti i 50 contatti che ha avuto questo sarà l'ottimo è certo dottore ti faccio l'ultima domanda poi dopo ti dobbiamo salutare in autunno per quanto per la tua conoscenza ovviamente tu non hai la sfera di cristallo ma tu pensi quante probabilità ci sono che in autunno quei numeri comincino a risalire ma a me ti dico questo a me piace dire anche proprio non lo so e secondo me tante persone di scienza dovrebbero iniziare di nuovo anche a dire non lo so perché su questo argomento veramente si possono prendere delle scommesse cioè se se tu vai a rivedere le dichiarazioni di luminari cioè ognuno ha la sua interpretazione ma di fatto non c'è io ti posso dire che sicuramente ci sono degli studi oggi che dicono che l'estate sta indebolendo il virus ce n'è uno sulla luce solare che è bellissimo dell'università di Oxford in cui hanno simulato la luce del sole a una latitudine di 40 gradi e si è visto che in 6 minuti distrugge per il 90% inattiva il virus sulle superfici bellissimo questo è uno studio che ci fa pensare molto bene per l'estate certo e sull'autunno possiamo solo dire che effettivamente in autunno le malattie respiratorie hanno di nuovo un picco quindi se il virus circola potrebbe ritornare di nuovo in forze per l'autunno però siamo veramente nel campo della sfera di cristallo come dici tu io ti preferisco dire che non lo so per fare una battuta è un po' come il pungidito cioè tiri la moneta in alto o uno o l'altro vedi in effetti abbiamo sentito tutto il contrario di tutto quindi apprezzo che ti ha l'onestà di dire questa cosa ecco io in questo voglio essere veramente onesto perché ma secondo me ti ripeto dovrebbero un po' esserlo tutti perché se no creiamo delle false paure e anche delle false aspettative ti devo salutare perché adesso noi vogliamo dopo la pubblicità perché adesso visto che si può ritornare a viaggiare poi dopo la pubblicità parliamo con un pilota dell'Alitalia fantastico per capire anche se viaggiare è sicuro e se sull'aereo possiamo essere infettati sull'aereo meglio la filtrante vero? infatti guarda ti volevo dire questo io viaggerei in aereo con una bella filtrante sì sono d'accordo e sarei bello tranquillo ti dico la verità la chirurgica non basta sono d'accordo con te l'aria condizionata? l'aria condizionata questo è un altro un altro bel punto interrogativo perché glielo voglio chiedere adesso al pilota perché sull'aereo c'è l'aria condizionata sì anche lì ripeto noi negli ospedali siamo molto curiosi di questi studi sull'aria condizionata perché a breve ci finiamo in mezzo e ci sono stati studi che hanno assolutamente negato questa possibilità e altri che invece hanno posto il dubbio ce n'è uno fatto in un ristorante che è molto interessante dove si è visto che in realtà può esserci anche questa diffusione per i condotti adesso chiediamo io sono un po' scettico perché se no l'avremmo già preso cioè lo prenderemmo veramente tutti anche noi qua in ufficio anche noi qua in ufficio va bene grazie dottore ti devo salutare ciao buon lavoro a presto allora adesso vogliamo almeno vogliamo virtualmente perché siamo collegati con un pilota di linea che è Clemente Ingenito che è anche consigliere tecnico dell'ANPAC buonasera Clemente buonasera buonasera Adriana buonasera a tutti voi allora lui in questo momento sei a Maranello giusto? quindi non sei qua in Lombardia siamo distanti ma ti vado a scatta ecco allora con l'apertura delle frontiere si può arrivare in Italia e gli italiani possono andare all'estero finalmente si può tornare a volare com'è cambiata la situazione poi dopo perché tu io so che hai anche trasportato degli italiani che si trovavano all'estero li hai riportati in Italia quindi poi ci dici anche come è andata in questo periodo del Covid ma partiamo dall'oggi dall'oggi e dal domani adesso si può tornare a volare come e in che modo si può tornare a volare cioè cos'è cambiato sugli aerei di linea? ma guarda con la fine della fase 2 infatti è entrato in vigore appunto il nuovo decreto che è valido fino al 14 di giugno quindi diciamo che è un po' più liberi adesso di andare in giro no? senza l'obbligo della quarantena abbiamo in Italia 23 aeroporti aperti hanno aperto anche le isole per la continuità territoriale della Sardegna fino al 12 e quindi si sono un po' allentati ecco tutto quello che era l'impatto iniziale il traffico purtroppo le prenotazioni sono calate tantissimo sono 4,5 milioni i voli cancellati e si prevede appunto che un lento ritorno una fase come questa non l'abbiamo mai affrontata nemmeno dopo l'11 settembre dopo la crisi del 2009 quindi è abbastanza pesante per il trasporto ma senti se allora chi viaggia in aereo adesso ci sono delle regole ad esempio di distanziamento quindi in cabina come funziona cioè su una fila di tre posti di due posti spiegaci come vengono collocati i passeggeri lo dico proprio in modo schematico ci sono delle linee guida per la gestione appunto di questo trasporto aereo allora tra le varie misure abbiamo il distanziamento di almeno un metro in aeroporto e in volo questo comporta quindi che non tutti i posti disponibili possono essere occupati cioè laddove adesso è stato anche un po' all'inizio l'Enac aveva previsto un metro e l'Alitalia aveva dato un'applicazione ferrea di questa regola poi comunque l'Enac che è l'Enac nazionale per azione civile ha un po' ammorbidito questa norma e adesso basta tenere vuoto il sedile in mezzo agli altri due sì però questo per degli stranei ma se si viaggia nello stesso nucleo familiare bisogna mantenere lo stesso la distanza no assolutamente no se si è all'interno del nucleo familiare si può stare vicini questa regola non va bene può andare diciamo bypassata poi c'è la misurazione della temperatura dei passeggeri e questo avviene sia all'ingresso dell'aerostazione e quindi se non hai il titolo di viaggio ad esempio non puoi entrare sia quando scendi e quando fuori ecci la temperatura ricordo non deve essere superiore ai 37 gradi e mezzo quindi praticamente adesso siamo tutti al corrente poi c'è l'uso delle mascherine obbligatorie sempre durante tutto il volo con un ricambio ogni 4 ore una mascherina nuova quindi se io vado a New York se io vado a New York mi devo cambiare la mascherina ogni 4 ore se faccio un volo intercontinentale ad esempio assolutamente la compagnia aerea poi ne fornisce una data dalla protezione civile e poi c'è l'intervento di sanificazione e disinfezione quindi la pulizia profonda di tutti i sedili e di tutte le superfici quindi ogni ogni volo ogni transito c'è tutta questa manovra quindi poi un'altra cosa infine c'è la IATA che prevede anche la necessità per tutti i governi di raccogliere i dati dei passeggeri quindi quando si entra ovviamente questi vengono raccolti oramai utilizzando i canali che sono già collaudati però quando si esce anche c'è un passaggio verso un controllo di polizia che prendono i dati di riferimento ecco queste sono le 5 regole che hanno cambiato un po' la vita l'atmosfera del passeggero da come lo era precedentemente poi adesso vediamo magari prossimamente prima di te c'era collegato con noi un medico che è esperto di coronavirus e parlavamo dell'aria condizionata che ci sono un sacco di studi sull'aria condizionata perché c'è qualcuno che dice che l'aria condizionata può veicolare il virus e altri che dicono di no se ci sono dei buoni filtri come funziona l'aria condizionata sugli aerei allora l'aria condizionata sugli aerei funziona che attualmente noi la mettiamo con un flusso massimo e le bocchette sopra passeggero aperte e in modo tale che funzionano un po' come schermo tra un passeggero e l'altro i filtri degli aeroplani sono i filtri quelli famosi EPA che sono anche presenti nelle sale operatorie quindi diciamo hanno un filtro filtrano meglio e sono anche le compagnie poi secondo insomma della manutenzione dovrebbero essere cambiate in modo più saltuare diciamo più veloce e questo comporta quindi anche un consumo maggiore di carburante comunque al di là di tutto l'aria condizionata a bordo degli aeroplani è regolata dal cockpit quindi da noi e mettiamo sempre il fusso adesso al massimo e non viene mai tolta tra l'altro la accendiamo mezz'ora prima dell'arrivo del passeggero quindi diciamo trovano una cabina abbastanza fresca anche sotto l'aspetto senti invece sto pensando che ad esempio il personale medico viene testato viene stato fatto il test sierologico adesso poco alla volta almeno qui in Lombardia non so in Emilia Romagna e poi vengono fatti i tamponi a tutte le persone tutti i medici sanitari a cui riscontrano gli anticorpi per i personali aerei vengono fatti dei controlli test sierologici oppure no solo in caso di sintomi sì solamente in caso di sintomi o solamente in caso c'è stato un passeggero che ha riportato questa criticità ecco fino ad oggi ho fatto la mia solita visita che io la faccio ogni sei mesi però a parte questo non ci sottopongono non ci sottopongono al test né di tampone né di rossi ok Jacopo come test no volevo chiedere una cosa perché qua in Lombardia avevano chiuso due aeroporti Orio e Linate ed è rimasto aperto Malpensa riapre Orio ma non riaprivano ancora le frontiere primo volo che arriva ore 6.50 del mattino arriva da Sofia a Bulgaria e io lì mi sono chiesto ma perché? cioè nel senso se è chiusa la frontiera chi volava durante il covid? questa è una delle domande che mi ero posto io guarda io mi sono posto a domanda perché Milano non è aperto se c'erano delle problematiche invece Linate è rimasta chiusa per una scelta del gestore aeroportuale dalla SEA il quale visto lo scarso traffico ha preferito concentrare tutti i voli sull'altro aeroporto quello di Malpensa e per quanto riguarda le altre compagnie non so dipende poi da quanta gente riesce a pronotare considera che il coefficiente di riempimento attualmente è del 67% il massimo che tu puoi fare quindi i costi sono molto alti la IATA prevede pensate questi sono numeri pesanti 550 miliardi di perdita entro la fine del 2020 è tanta roba cioè 26 milioni di posti di lavoro in Europa solo 6 milioni riguardo al traffico aereo perché poi considerate che c'è un indotto incredibile quindi per gli aeroporti italiani fino ad oggi sono stati persi 45 milioni di passeggeri rispetto al stesso periodo dello scorso anno le compagnie straniere secondo me stanno cercando anche di vedere un po' le prenotazioni come vanno perché io so anche che parecchi programmano perché mi hanno telefonato alcuni passeggeri alcune conoscenze e poi dopo si ritrovano il volo cancellato quindi adesso non posso parlare per tutti però prevedo un lento ritorno io ho fatto attualmente proprio ieri sono stato in Sicilia dove invece avevo un coefficiente molto alto però bisogna contare anche che era il 3 di giugno quindi la riapertura la gente è tornata a casa tanto tempo che infatti gli ho chiesto anche a qualche passeggero come andava e durante la pandemia ho chiesto invece a quelli che venivano a Bologna ad esempio e loro venivano per necessità molti erano persone che dovevano andare a fare controlli ospedalieri e quindi avevano l'autorizzazione per poter varcare il confine e questo prima ma senti scusami ma chi ha rinviato un volo adesso lo può riprogrammare subito o ancora non ci sono tutti i voli programmati come prima perché sono meno no? cioè se io prima avevo deciso di andare alle isole Olie e poi ho dovuto cancellare per la pandemia quando si tornerà alla normalità? quindi quando si potranno riprogrammare i voli come prima? quando si tornerà alla normalità non lo so attualmente all'Italia opera con 30 rotte su 25 aeroporti di cui 15 in Italia e 10 all'estero e sicuramente diciamo la continuità territoriale come ho detto in precedenza è garantita si possono c'è molte elasticità io so che per esempio se si può si può riprogrammare il volo in base perché poi considerate che essendoci pochi voli ci sono i trattiti sono aumentati cioè le tempistiche sono aumentate tantissimo cioè quindi magari un passeggero arriva la mattina non so più vicino poi si trova a ripartire aspettare il volo nel pomeriggio per poter andare a destinazione non è più come prima la vita è cambiata e quindi bisogna anche prendere riferimento e la mia preoccupazione è anche il fatto che sicuramente le spese saranno molto più alte perché come vi ho detto c'è la sanificazione dell'aeroplano per ogni volo io non penso che usufruiranno le stesse procedure di una volta che da una parte le devi scendere e da un'altra salire c'è per forza una tempistica e un servizio che bisogna dare e questo sicuramente costerà adesso io non lo so costerà su noi passeggeri quindi questo vuol dire che i biglietti aumenteranno di parecchio io non lo so si cerca sicuramente adesso so che c'è una proposta di far diminuire quella che è la tattazione poi ripeto ci sono le major che danno un servizio le altre fanno un business sono modi di viaggiare diversi quindi laddove le low cost parliamo delle low cost hanno un gestore aeroportuale che gli garantisce un ritorno economico loro faranno il volo mentre io ripeto una major come nel nostro caso in Italia abbiamo questa compagnia di bandiera tanto criticata e tutto quanto ma ha sempre garantito un servizio anche se i voli erano ovviamente in deficit quindi sono due cose un po' diverse però dobbiamo vedere adesso piano piano si riparte tutto vi ho fatto vi ho anche parlato degli aeroporti considerate che adesso molti negozi dentro gli aeroporti sono sigillati infatti noi stiamo vedendo delle immagini tu non lo sai scusa perché appunto non sei qui in Lombardia ma noi stiamo facendo vedere delle immagini con gli aeroporti che sembrano dei deserti perché è tutto chiuso infatti sono delle immagini un po' che ti danno l'angoscia perché vedi tutto sigillato tutto incelofanato e quindi quelli i parcheggi vuoti che non si è mai visto un parcheggio vuoto in aeroporto quindi ti dà un po' l'idea appunto che non c'è il giro economico che c'era prima e prima io mi auguro che adesso con l'estate la nostra cara Italia appunto attivi un po' quello che è la volontà degli altri di vedere il bel paese però bisogna stare a vedere come se facciamo sistema se riusciamo ad attrarre della gente poi considerare che anche la morfologia dell'Italia non permette se uno deve andare da Venetti a Palermo il trasporto aereo è fondamentale ma è fondamentale anche per quello che abbiamo fatto in questo periodo andando a prendere tutti i materiali sanitari a Shanghai tu sei andato a portare tu hai riportato in Italia anche degli italiani che erano all'estero o hai portato anche mascherine ventilatori cioè durante il tempo del covid che cosa hai in che cosa hai viaggiato cosa hai fatto io mi sono diciamo mi sono ritrovato ad essere attivo perché mi hanno chiamato delle persone che erano rimaste a terra molti per esempio studenti dell'Erasmus molti ragazzi da Londra ho portato tantissime persone ma anche ho aiutato tante persone dal Sud America o anche da paesi africani a tornare tramite trovando una rotta tramite Parigi Londra Francoforte che erano sempre stati collegati con l'Italia e quindi abbiamo trovato dei biglietti in modo tale che avessero la possibilità di tornare in Italia io quindi oltre questo poi ovviamente ho fatto ho fatto il mio dovere così come tutti i miei colleghi sia di terra che di volo ovviamente con questi voli i voli delle mascherine sono stati effettuati da lungo raggio e quindi da aeroplani diversi da quelli da cui sono abilitato io verso appunto verso la Cina verso l'Oriente io invece ho effettuato voli all'interno qui dell'Europa spesso Londra mi sono trovato ma più che altro anche in Italia certo ma rispetto a quello che sta succedendo la domanda mia è c'è un po' di timore da parte anche vostra non soltanto cioè del personale non soltanto magari dei clienti e dei passeggeri sulle tratte a lungo raggio sulle transoceane quelle dove devi stare ore e ore dentro all'aeroporto percepite un po' di non perplessità ma timore quantomeno in più rispetto a un volo breve dico no no questo no perché è molto soggettiva la cosa devo dire la verità perché io ho tantissimi amici con cui vado giù a Roma e loro effettuano questi voli attualmente operiamo solamente la New York sapete che poi adesso dobbiamo rivedere come come riprende il traffico internazionale e ci sono voli cargo questi voli che sono cargo quindi trasporto di merci per il trasporto dei passeggeri paganti temiamo più che altro che non ci sia il flusso che c'era una volta cioè rivedo 4,5 milioni di voli cancellati è tanta roba quindi io non lo so l'Italia è sempre stata il paese che ha tratto il turismo e dobbiamo però far sistema perché da soli sicuramente non andiamo da nessuna parte sperando ovviamente poi considerate che da noi sta avvenendo appunto l'estate mentre nella parte sud come sentite in sud America stanno aumentando i casi e infatti ti volevo proprio chiedere questo mi ha anticipato la domanda dove l'epidemia è in ritardo quindi dove c'è adesso che tu sappia stanno già organizzando dei rientri per gli italiani per tornare non so se c'è un italiano in Brasile dove può tornare o ancora no cioè come funziona allora io considero sempre allora innanzitutto noi abbiamo effettuato sono stati effettuati dei voli grazie all'interessamento della Parnesina con i consolati locali io personalmente ho parlato con gente in Brasile ma anche in Argentina dove ho tantissimi amici e per fortuna sono riusciti a tornare con voli ad hoc specifici è opportuno verificare sempre e lo dico e ne approfitto Adriana del tuo canale per dire che cercate sempre di verificare sul sito della Parnesina e quindi viaggiare sicuri perché ci sono questi voli programmati e poi uno deve contattarli mettersi in lista perché il consolato coordina come poi dopo il rientro io so che ci sono mi hanno contattato anche via social hanno fatto di tutto perché ci sono delle persone un po' disperate che ovviamente sai devi pagare l'albergo devi stare lì quindi bisogna consultare la Parnesina per vedere appunto se esistono questi voli organizzati cioè informarsi da lì dal sito del ministero degli esteri assolutamente sì a meno che uno poi dopo riesca a trovare tramite un volo diverso che arrivi a New York come ho fatto ripeto per altre persone che ho fatto arrivare a New York e poi a New York hanno preso il volo dell'Italia per Roma certo però sempre tramite bisogna farlo tramite l'ambasciata cioè non è che si può fare individualmente ci si informa in quel modo sì però ci sono delle tratte dei compagni americane che raggiungono questi posti fino in America fino a New York quindi magari si possono fare dei voli con più scali e arrivare a New York ripeto a New York oppure a Francoporte e poi dopo da lì e poi da lì venire a casa va bene grazie Clemente Ingenito sei stato molto utile ti disturberemo ancora se avrai piacere di raccontarci e poi soprattutto sperando che i voli aumentino un po' di più comunque insomma si può viaggiare sicuri tu ci garantisci che si può viaggiare sicuri sull'aereo questa era la la mia preoccupazione principale mi lasciate sereni va bene ci saluti ci saluti Maranello vedo che dietro potevamo capire dov'era perché lì sul comò dietro vedo tre ferrarini belli come se qui la velocità è importante è vero ci saluti Maranello saluti Redondino e Balù arrivederci arrivederci grazie va bene abbiamo questa cosa in comune io e il pilota in genito di Balù e Raimondino poi vi spiegheremo di cosa si tratta mandiamo la fascia adesso poi entriamo nella politica entriamo nella politica prima la politica milanese perché abbiamo accennato prima ai monopattini e alle piste ciclabili adesso credo che litigheranno i prossimi ospiti a proposito proprio della pista ciclabile la pista ciclabile di Corso Venezia e Corso Buenos Aires a tra poco mi vedo non vedo se sono in onda ecco adesso sono in onda rieccoci in diretta allora durante la pubblicità ho visto capovolgersi De Pasquale col collegamento Skype diventare verticale poi orizzontale fare il giro su se stesso adesso sei giusto Fabrizio De Pasquale Forza Italia Filippo Barberis Partito Democratico abbiamo i due capogruppo mi rendo conto adesso che siete i due capigruppo giusto quindi sono molto orgogliosa di avere voi due ospiti per parlare allora però De Pasquale in questo momento non è a Milano è in Liguria prima ci ha fatto vedere una roba meravigliosa del tramonto sul golfo sei sulla riviera di Ponente no di Levante no Camogli all'inizio dopo magari se riesci ad andare sul telefono ce lo fai vedere però prima parliamo di Milano parliamo dell'argomento che sta dividendo i milanesi che la pista ciclabile è voluta tanto da Sala e da Granelli che quella che va da Corso Venezia fino a tutto Corso Buenos Aires allora noi ne abbiamo parlato anche con l'assessore Granelli perché De Pasquale non vi piace sta pista ciclabile? no allora premesso io vado spesso in bici e non ho nulla contro le bici la questione che noi solleviamo è che in una città come Milano la sede del Politecnico la città dell'architettura non è possibile che un assessore si svegli e faccia una ciclabile senza fare un progetto e quindi cos'è successo? che ogni giorno salta fuori qualche magagna salta fuori qualche problema salta fuori qualche incidente ieri c'è stato il problema degli allagamenti in pratica sono delle piste improvvisate non sono state progettate e naturalmente la prima cosa che non è stata ben ponderata è il percorso chi ci dice che non fosse meglio per chi è di Milano mi capirà subito passare da via Benedetto Marcello da via Morgagni e fare una bella ciclabile in mezzo al verde anziché far passare la ciclabile in mezzo ai tubi di scappamento in corso Buenos Aires sono tutte valutazioni che secondo noi bisognava fare con degli studi con delle analisi guardando ai flussi di traffico guardando agli incroci e dopo si decideva dove farla invece ha prevalso come spesso accade la voglia di far vedere che si fa qualcosa ma si è fatto qualcosa di sbagliato perché adesso abbiamo un traffico congestionato abbiamo meno posti auto abbiamo i commercianti che si lamentano perché comunque nella strada è impossibile parcheggiare e abbiamo anche avuto i primi incidenti quindi ripeto non è sbagliato fare piste ciclabili è sbagliato fare piste ciclabili senza progettarle senza nessuna programmazione ok quindi sono improvvisate non c'è programmazione Barberis invece voi le difendete spada tratta questa pista ciclabile noi sicuramente difendiamo l'idea di approntare velocemente delle piste ciclabili che è quello che stanno facendo anche altre città italiane anche governate dal centro-destra e le principali città a livello internazionale proprio perché questa emergenza ha imposto di individuare delle forme alternative sostenibili di mobilità rispetto al trasporto pubblico locale proprio per consentire di mantenere il distanziamento fisico e quindi nasce da questa esigenza l'accelerazione nella costruzione di piste ciclabili in realtà per la stragrande maggioranza già progettate e previste all'interno dei lavori pubblici quindi per il grosso delle piste che stiamo approntando e abbiamo già approntato parliamo di progetti che stanno subendo un'accelerazione non che vengono dipinti la notte dai figli dei tecnici che non sanno cosa fare durante la sera ma perché De Pasquale dice che non c'era una progettualità come se dal mattino alla sera Granelli dicesse facciamo questa pista c'era sto progetto o non c'era? il progetto di seguire un'arteria così importante come quella che va da Sesto San Giovanni a Piazza San Babila non è certamente un'intuizione che è arrivata durante il Covid però detto questo vi dico le cose che dico anche all'assessore quando parliamo di questo tema se da un lato secondo me è stato utile e infatti le migliaia di ciclisti in più che ogni giorno utilizzano quella pista ciclabile confermano che non è il capriccio di un assessore estremista ambientalista ma risponde effettivamente a una richiesta da parte dei cittadini di maggiore utilizzo della bici e quindi di spazi per andare in sicurezza sulla bici io sono assolutamente laico invece nell'andare a verificare come questi percorsi possono poi con l'utilizzo essere migliorati essere deviati essere protetti però bisogna partire tu stai dicendo prima o poi bisogna partire ma ce l'ha riconosciuto il mondo le foto di Milano hanno fatto il giro del mondo però non il giro del mondo l'hanno fatto perché eravamo tra i primi a reagire ok aspetta fammi sentire Pasquale poi ho due domande vai Fabrizio poi due domande ho fatto il giro del mondo perché sono immagini ridicole cioè tutto il mondo ha visto che praticamente è stato collocato il posto per i disabili con a sinistra la corsia la careggiata delle auto e a destra quella delle bici quindi il povero disabile quando deve fare l'operazione di salire o scendere dall'auto è veramente a rischio di essere arrotato e quindi già ci sono state proteste per quel motivo poi si sono subito verificati degli incidenti perché in molti punti le auto non vedono i ciclisti che stanno scorrendo lungo la ciclabile poi voglio ancora ricordare che nottetempo l'assessore Granelli ha dovuto intervenire e far cambiare molta segnaletica ha dovuto far cambiare con i pennelli diciamo alcuni pezzi di pista perché c'erano dei punti precisamente in piazza Oberdan dove si creava un grosso problema di pericolo allora la mia domanda è ma perché bisogna fare i lavori di notte due, tre volte quattro volte perché bisogna scoprire solo dopo che quella soluzione quell'incrocio è sbagliato queste sono cose che dovrebbero studiare gli uffici la vigilanza urbana e invece no quando io dico che non c'è il progetto parlo di un elemento che tra l'altro ho depositato in un esposto che io ho fatto in procura cioè purtroppo questo lavoro è stato fatto con dei lavori diciamo degli appalti di manutenzione stradale quindi anziché tappare delle buche è stato detto all'impresa sistema una pista ciclabile facendo una striscia lungo l'asfalto ma non è così che si fanno i ciclabili cioè bisogna ripeto studiare molto di più i flussi capire se in quella strada c'era spazio perché probabilmente ci sono delle altre strade a destra e a sinistra dove c'è meno traffico automobilistico e dove forse i ciclisti potevano più tranquillamente viaggiare io capisco tutto per carità e ribadisco ribadisco che il piano è quello che era previsto anche del piano urbano della mobilità e i chilometri che stiamo facendo in più di piste ciclabili sono frutto esattamente della progettazione di quel lavoro dopodiché c'è stata e io dico per fortuna la scelta di muoversi molto velocemente perché se avessimo usato solo le procedure ordinarie avremmo visto magari alcuni interventi a settembre ottobre quando noi avevamo l'esigenza immediata dal 4 di maggio di un trasporto pubblico che poteva portare il 75% in meno dei passeggeri quindi non è che potevamo aspettare dei mesi bisognava intervenire subito si può migliorare non è che abbiamo alzato dei muri non è che abbiamo fatto delle opere che chissà quanto sono costate quindi si può modificare Barberis si può modificare allora fermi perché ho delle domande sì ma io ho un approccio su questo in generale su tutto in politica ma per continuare a monitorare verificare e migliorare però dovevamo partire e di corso allora domanda una domanda per Barberis quando pioverà voglio vedere quanti andranno in bici una domanda beh un'affermazione nel senso che sia Sala sia Granelli sia tu state dicendo un sacco di ciclisti in più però mi dicono quando piove tutti questi ciclisti in più non ci saranno ho capito ma allora quando piove ci sono anche dei meno motociclisti allora non facciamo le ciclabili perché piove io credo che ci sia un ampio spazio per migliorare le infrastrutture ciclabili per favore pulite e tenete in ordine le piste ciclabili altrimenti i poveri ciclisti sono d'accordissimo una delle polemiche che viene sollevata è perché si fanno i parcheggi a sinistra delle piste ciclabili la risposta in realtà è che proprio nel momento in cui la pista è dipinta e non protetta dalle infrastrutture come possono essere dei marciapiedi rialzati era ovvio che la sinergia era tra il parcheggio e la ciclabili in modo che la ciclabili fosse protetta dal parcheggio domanda per Fabrizio De Pasquale se in caso di cambio di giunta se andate a governare Milano cortesemente toglierete area B? Assolutamente sì ma la cosa fantastica è che area B l'ha già tolta sala cioè durante questa emergenza che è stata drammatica ci sono state alcune cose positive la più importante di tutte è stata che si è dimostrato come togliendo tutte le auto da Milano non c'è stato a quella diminuzione dello smog che si pensava in realtà diciamo probabilmente lo smog all'interno di tutta la pianura padana è legato ad altri fattori il riscaldamento il fatto che ci sia poco circolo di aria quindi una delle cose poche positivi di questa emergenza è che comunque il sindaco ha cancellato prima area C e poi area B e per quanto ci riguarda se noi dovessimo vincere le elezioni del 2021 la prima cosa che facciamo è di cancellare area B di cambiare completamente area C e soprattutto di togliere queste ciclabili quando sono fatte male perché non è l'unica pista c'è anche quella che va a lungo Viale Monterosa che è quattro anni che stanno cercando di finirla allora c'è l'espettatore che dice grande De Pasquale ha già il mio voto allora facciamo così di certo per ora c'è solo che il 15 giugno da quello che ho capito io tornano sia area C sia area B giusto Barberis? solo area C no solo area C ah solo area C fantastico ok già non avevo capito mandiamo la fascia mandiamo la fascia e poi ci sarà Jacopo Casoni che vi fa un po' di domande a tra poco allora siamo collegati con Filippo Barberis capogruppo Partito Democratico in Consiglio Comunale e Fabrizio De Pasquale capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale abbiamo parlato di area C area B De Pasquale ha fatto questo programma in caso di vittoria alle elezioni eliminiamo area B e modifichiamo area C Barberis cosa vuoi dire a questo proposito? che noi siamo assolutamente convinti invece che le misure vadano implementate e mantenute secondo una tabella di marcia che vede il divieto graduale di quelli che sono i mezzi privati più inquinanti e è assurdo che io debba ancora argomentare perché la sfida ambientale della mobilità è decisiva per la sostenibilità della città per la salute nostra dei nostri bambini di questo parliamo non parliamo di vezzi da ambientalista parliamo della salute dei nostri bambini e di chiunque cresca in questa città area B è una misura che da qui a tre anni secondo la nostra tabella di marcia ridurrà la circolazione dei veicoli che sono responsabili dei due terzi delle emissioni più inquinanti di questo parliamo di disintossicarci disintossicarci e contemporaneamente nuova linea di metro potenziare i mezzi di superficie nelle periferie potenziare lo sharing potenziare il ciclabile quindi non è una cosa che viene fatta in soluzione neutra è un processo è un processo e credo è un lavoro mi dispiace non saremmo d'accordo con De Pasquale ma forse questa è una delle ragioni per cui uno sceglie di votare a destra o a sinistra l'attenzione ai temi dell'ambiente alla qualità dell'area come una premessa fondamentale per la qualità della vita per l'attrattività della città a livello internazionale non solo a livello locale è dieci anni che governate e ci sono ancora oggi ci sono le giornate in cui si supera la soglia dei polveri si sono però ridotte del 40% Fabrizio queste giornate si sono ridotte del 40% queste giornate basta che ci sia un periodo in cui non piove non c'è vento e si ritorna a quella roba lì non sono servite a niente non è servito a niente vabbè voi avete due chiavi di lettura diverse sicuramente c'è ancora molto da fare però che non sia servito a niente De Pasquale non è vero che non sia servito a niente non è vero a qualcosa è servito forse non ha tanto quanto volevano loro però proprio a niente non è neanche vero Jacopo forse forse neanche tanto quanto pensava la Moratti quando ideò Icopas perché poi dobbiamo anche sempre ricordarci che la prima che fece un ragionamento ma come parlava lei di ecopas e ecopas per una questione ambientale l'area C si chiama così perché è una congestion charge quindi addirittura aveva allevato pure il concetto dell'ambientale che adesso Barberi si ha reinserito più o meno però in realtà sembrava più ecologista l'idea della Moratti piuttosto che quella di Pisapia che voleva invece decongestionare il traffico guarda la congestion charge veramente in tre secondi parte da un presupposto scientifico che le auto con l'attrito che producono sull'asfalto oggi che le emissioni dallo scarico sono meno inquinanti sono più inquinanti le emissioni d'attrito di quelle da tubo di scarico e quindi ridurre il numero di auto che circola significa essere ancora più impattanti che ridurre tra virgolette le auto che adesso hanno delle tecnologie meno inquinanti Eris siccome Barberis ha avuto dieci anni per dimostrare che le sue ricette funzionano e purtroppo non funzionano adesso non datevi anche più tempo durante ma non è così andiamo anche oltre perché è chiaro che voi scusate è chiaro che voi avete un approccio diverso agli antipodi andiamo oltre sul riscaldamento perché fino adesso non si è fatto nulla ma non è vero anche le misure prese da questa amministrazione non servono a niente perché Milano è una città basata sul lavoro sulle imprese sulla gente che si deve muovere quindi non li si può sui condomini che non vogliono cambiare le caldaie ecco secondo lo studio fatto peraltro dall'assessore Granelli cioè secondo il piano urbano della mobilità solo il 6% degli spostamenti dei cittadini mianesi avviene in bici perché è evidente che non tutti possono usare la bici gli anziani non la possono usare le persone che hanno problemi non la possono usare quando piove non la può usare nessuno se devi fare 5 appuntamenti in città non puoi usarla quindi bisogna essere molto più pragmatici fare in modo che il traffico sia più fluido che non ci siano dei continui restringimenti di carreggiata e naturalmente fare molto meglio di quello che avete fatto voi per il trasporto pubblico perché ricordiamo che la Moratti ci ha messo 5 anni a fare la linea 5 voi ci state mettendo 13 anni a fare la M4 questo purtroppo ormai è assodato non ve lo toglie più nessuno Barberis replica e poi però cambiamo argomento qua siamo un po' all'assurdo perché la persona che sospese i lavori dell'M4 ha un nome un cognome si chiama Letizia Moratti e la ragione per cui si è chiusa prima l'M5 è perché Letizia Moratti sospese per anni i lavori sull'M4 quindi c'è un minimo di ricostruzione storica sensata oltre al fatto che avete chiuso un project financing che non stava in piedi e che noi abbiamo deciso comunque portare avanti nel luglio 2011 siamo nel 2020 andate a parlare con i cittadini che abitano lungo la linea e fatevi spiegare quando sarà pronta quella linea siete purtroppo indubitabilmente incapaci di fare le opere pubbliche d'altronde la ciclabile è fatta in corso Venezia dopo 20 giorni è allagata e l'avete già rifatta tre volte quindi più di questo non penso che sia difficile uscendo dalla questione uscendo dalla questione trasporto scusami Filippo perdonami uscendo da questa questione del trasporto io entrerei in quella che diceva De Pasquale Milano è una città di lavoro quindi è una città che deve fare come dire business il grano i soldi è una città importante da quel punto di vista molti comuni non hanno ancora deciso che cosa fare con le varie tasse comunali in questa fase di uscita dal covid ci sono alcuni che non hanno ancora neanche scritto una riga su che cosa fare Milano mi pare Barberis che già abbia deciso quantomeno sull'Atari come agire ci sono l'Atari e l'Imu che scadono fra 11 giorni avete un'idea precisa di cosa fare giusto intanto non scadono tra 11 giorni perché abbiamo rinviato le scadenze a settembre le hanno rinviate ok perché noi abbiamo già deciso di cancellare la COSAP che è la tassa sull'occupazione del suolo pubblico sia per le licenze in essere che per le nuove licenze che saranno gratuite dal primo di marzo quindi retroattivamente fino al 31 di ottobre che è una delle misure che abbiamo preso tra i primi in Italia e che in qualche modo serve anche a compensare le misure di distanziamento sociale che impongono una riduzione di coperti all'interno di tantissimi esercizi in particolare bar e ristoranti ed è anche una misura importante dal punto di vista dei costi ma sull'Atari state ragionando sull'Atari chi ha chiuso per i tre mesi di lockdown di toglierla sostanzialmente però per farla semplice noi in questo momento abbiamo 540 milioni di disavanzo sull'anno corrente per tutta una serie di voci di entrata dai trasporti agli aeroporti proprio anche ai tributi pensate la tassa di soggiorno che cubava 50 milioni di euro immaginate quest'anno che cosa arriva quindi tutti questi ammanchi che sono da un lato nella normalità la forza di Milano e dall'altro ovviamente aggravano la nostra situazione sono un tema che stiamo affrontando con Roma avere le risorse per interventi robusti sul fronte dell'Atari e dell'Imu come abbiamo proposto con emendamenti al decreto rilancio insieme al Lanci è una delle azioni fondamentali su cui noi ci concentreremo e in ogni caso vogliamo prevedere comunque anche col fondo di mutuo soccorso delle misure a sostegno immagino anche lavoreremo su questo insieme anche alle opposizioni sul fronte commercio artigianato e turismo però è chiaro che il grosso delle risorse dobbiamo cercare di tirarlo fuori nel rapporto con Roma che non può dare ai comuni italiani quanto ha dato ad Alitalia che è veramente ridicolo e lo dico diciamo da esponente di una forza politica che ha il governo ma che quando si fanno delle cose che non condivido lo dico punto non è che devo inchinarti perché è stato chiaro ascoltami prima di sentire De Pasquale su questo una domanda flash a te a proposito del governo di quando fa una cosa che non vi sta bene ci sono i ristoratori che sono in piazza che protestano per le loro questioni perché hanno bisogno anche loro di riduzioni fiscali e di aiuti siccome noi li intervistiamo spesso ci hanno detto che del centro-sinistra non si è visto nessuno sto parlando di quelli che sono all'arco della pace che protestano lì da giorni come mai non ci siete andati non ritenete giusta la protesta cosa ne pensi tu? a me hanno contattato anche perché c'era questo ristoratore che era rimasto in tenda per tanti giorni davanti all'arco della pace e quindi andrò settimana prossima anche perché non c'è nessun tipo di disattenzione o volontà di discriminazione dico qui in maniera molto esplicita che è stata una fesseria a fare le multe ai ristoratori durante quella manifestazione si potevano fare altre 500 cose per provare a distanziarli a dissuaderli prima di arrivare con i verbali che è una cosa che grida vendetta al cielo perché stiamo parlando di persone che sono davvero disperate dal punto di vista economico vai lì a fare una multa a me manda fuori di testa quindi tu ci vai a trovare e non sono un ristoratore vai a trovarli non ho capito se vai a trovarli sì mi ha contattato proprio una persona e quindi andrò settimana prossima anche perché io sono solo contento poi di potermi confrontare non mi interessa anche se fa parte anche del nostro mestiere di politici quindi noi dobbiamo ascoltare anche quando ci viene scaricata addosso della rabbia ma credo sia fondamentale confrontarsi e non sottrarsi mai allora De Pasquale hai sentito che Filippo Barberis dice io il governo su queste cose qua ci deve dare un aiuto più concreto e anche sia per quanto riguarda le tasse sia per quanto riguarda i ristoratori tu cosa ne pensi? ma io penso questo che se il sindaco Stala anziché sparare tutti i giorni contro la regione avesse cominciato un po' prima a controllare il bidone del suo governo forse Milano non sarebbe stata trattata così male perché qua l'assurdo è questo la nostra città è quella che per prima ha dovuto chiudere è quella che ha subito i danni maggiori perché nessuna città aveva così tanto turismo business legato ad eventi a fiere eccetera quindi noi abbiamo avuto praticamente ristoranti esercizi pubblici negozi alberghi chiusi per tre mesi e ancora il governo non ha stabilito nulla noi dal 25 di febbraio ci siamo messi a disposizione della maggioranza per dire siamo pronti a votare tutti quei provvedimenti urgenti di cui la città ha bisogno e abbiamo fatto una lista il primo era la rivoluzione della tassa sui rifiuti per gli esercizi pubblici in particolare per quelli che sono stati chiusi perché se uno è stato chiuso tre mesi come fa ad aver prodotto dei rifiuti poi abbiamo chiesto di eliminare il canone occupazione solo pubblico e dopo tre mesi il PD e Barberis finalmente ci hanno dato ragione poi abbiamo chiesto di incidere anche sull'Imo perché molte persone fanno fatica a pagare degli affitti a Milano per i negozi per i ristoranti quindi bisogna convincere non con provvedimenti forzosi che sono incostituzionali ma attraverso la leva di sconti bisogna convincere i proprietari degli immobili dove ci sono i locali pubblici ad abbassare gli affitti almeno per quest'anno poi abbiamo proposto anche che il comune abbassasse i suoi affitti perché ci sono anche moltissime associazioni circoli ristoranti che sono ospiti del demanio comunale e poi comunque chiediamo che questa città che è una città ricca perché guardate che il comune è uno dei pochi comuni che ha ancora dei soldi in tassi Fabrizio devi concludere perché c'è un altro collegamento chiudi il tuo discorso perdonami certo quello che voglio dire è che purtroppo ancora ieri abbiamo visto che questa maggioranza di sinistra si pone il problema dei rider e non si pone il problema dei tassisti degli artigiani dei commercianti cioè mentre i rider hanno comunque lavorato durante l'emergenza ci sono categorie che stanno facendo la fame perché in questo momento non incassano da tre mesi i tassisti guarda ci collegheremo lunedì con i tassisti quindi parleremo direttamente con loro del loro problema è assurdo che il comune abbia approvato un tavolo a favore dei rider e non abbia stanziato nulla a favore dei tassisti no però non è così dai Fabrizio cioè noi al tavolo con i tassisti ci siamo da settimane poi possiamo anche fare un ordine del giorno di indirizzo sul fare anche un tavolo con i rider ma al tavolo con i tassisti ci siamo da settimane non diciamo per favore e tra l'altro stiamo pensando proprio delle misure che riescano a tenere conto da un lato delle esigenze sociali penso ai voucher per i disabili per gli anziani fragili per le donne per tutto il personale medico ospedaliero che possano utilizzare i taxi in modo calmerato e tra l'altro è una proposta su cui siamo anche d'accordo fermi devo fermarmi devo fermarmi perché ho un altro collegamento perdonatemi ne faremo un altro lunedì ci colleghiamo con i tassisti chiediamo a loro se si sentono tutelati oppure no Fabrizio 30 secondi perché se no ho ascoltato solo no scusate io volevo solo far capire la differenza fra il centrodestra e il PD cioè molte idee l'abbiamo capita la differenza De Pasquale lo sappiamo che differenza c'è credo che l'abbiamo capito tutti no no se no poi devo fare dare la replica a Barberis non la finiamo più devo salutarvi perdonatemi facciamo un altro collegamento presto no però una replica la devo dare dai però veramente se no io non sento più nello sento solo voi due che vi replicate a vicenda dai la replica di 30 secondi io sto dicendo che è fondamentale il fattore ok abbiamo capito stop De Pasquale dai Barberis chiudi tu la differenza è che noi governiamo e non possiamo violare la legge per cui non possiamo spendere decine di milioni di euro perché tanto li chiediamo essendo all'opposizione il lavoro col governo che stiamo facendo è proprio per nel rispetto della legge riuscire a dare le risorse a molte categorie su cui la vediamo in maniera cosidista De Pasquale io però non vengo più a una diretta con te perché ti ho ascoltato 10 minuti in silenzio e se nei 30 secondi in cui parlo ho te sotto che parli non riesco neanche a sentire me stesso dico solo due cose e chiudo noi abbiamo chiarissime le esigenze e le difficoltà del settore del commercio del turismo e dell'artigianato e ci batteremo come leoni tutte le prossime e lo stiamo già facendo da settimane e da mesi perché le risorse di cui ha bisogno il nostro sistema non è in autonomia il nostro sistema poterle generare per questo noi con le altre grandi città d'Italia e questo è un tema che è nato in Anci che è stato riconosciuto anche da Conte la specificità e le grandi città ho finito due cose velocissime noi stiamo lavorando sui sussidi alle famiglie sui sussidi agli affitti non solo alle categorie come abbiamo detto prima e su questo anche dobbiamo intervenire perché c'è un'emergenza sociale legata al commercio c'è questa emergenza e non mi si dica che noi siamo lenti sulle opere pubbliche perché gli alloggi dico solo questo riqualificati di edilizia residenziale pubblica in questi anni il centrodestra neanche con il telescopio li vedeva neanche con il telescopio va bene concretissima come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ne parleremo ancora stop basta se no veramente andiamo avanti fino a mezzanotte con voi due vi ringrazio purtroppo non possiamo far vedere il golfo di Camogli perché è troppo tardi peccato grazie Pasquale grazie Barberis ho un altro collegamento non posso più grazie a voi due buon lavoro a presto ci fermiamo c'è la fascia e poi altri due politici parliamo del MES dei soldi al governo che dovrebbero arrivare tutti questi miliardi ma pare che arrivino tra un anno e quindi cosa ce ne facciamo mandiamo la fascia e poi ne parliamo a tra poco allora siamo in diretta di nuovo con Silvia Scurati nella Lega no scusate mi viene da ridere perché abbiamo parlato di cronometri e Nicola Di Marco Movimento 5 Stelle buonasera ben trovati a voi due ciao buonasera a tutti allora non parliamo più di di piste ciclabili o di tasse milanesi volevo spostarmi su questioni più robuste che è quella degli aiuti economici a questo punto la Lagarda ha concesso questo aiuto questo prestito a fondo perduto di 82 miliardi che però ormai è acclarato arriverà tra un anno e mezzo e mentre noi abbiamo bisogno adesso allora si allarga sempre di più il fronte che dice prendiamoci sti 37 miliardi del MES che arriverebbero subito e che ci darebbero una boccata di ossigeno e che noi possiamo restituire con tutta calma e con condizioni molto vantaggiose il problema è che le opposizioni non lo vogliono ma mi sembra che anche all'interno della maggioranza di governo il Movimento 5 Stelle non lo voglia quindi caso vuole che voi due credo siete d'accordo nel non volerlo però una parte dell'opposizione Forza Italia una parte del governo il PD invece li vuole cioè si è creata una maggioranza degli schieramenti trasversali allora Di Marco parto da te perché il Movimento 5 Stelle è al governo però non lo vuole Conte a questo punto che fa? Ma io penso che la nostra posizione sia stata molto chiara in passato anche negli ultimi giorni noi non ci fidiamo ancora di questo strumento denominato meccanismo di stabilità europeo perché al momento a nostro avviso prevede ancora delle condizionalità che potrebbero diciamo crearci dei problemi nel futuro diciamo del nostro paese è chiaro che qualora nel corso delle trattative dovessero emergere dei miglioramenti delle modifiche come ha detto Conte nell'ultima conferenza stampa bisognerà valutare cosa prevede questo nuovo accordo dopodiché si potranno trarre le conclusioni però è chiaro che se dovesse rimanere quello che è stato negli anni passati e quello che ancora attualmente noi faremo molta fatica a questo faremo ancora molta fatica ad accettarlo Silvia Berlusconi invece è diventato un po' il ponte tra il centrodestra e il governo per dire di sì a questa ipotesi io sinceramente me lo aspettavo perché all'interno del centrodestra è una posizione molto più filo europeo della vostra però voi come la vedete dal vostro punto di vista eravate tutti insieme in piazza a protestare contro il governo e adesso Forza Italia si sfila? Ma sai la posizione di Forza Italia poi non tocca a me fare l'esegesi del pensiero di Berlusconi però ha sempre stato un partito molto più filo europeista rispetto a noi non è un mistero e non lo nascondiamo il banco di prova sarà come è stato annunciato l'arrivo in senato del documento dovrebbe essere il 17 giugno quindi vedremo cosa porterà poi Conte perché qua ci hanno raccontato che il MES non ha un impatto è in pratica un prestito quasi come se fosse senza nessuna niente in cambio ma in realtà non è così perché il trattato internazionale europeo come tutti sanno prevedono ben altri tipi di claus l'abbiamo visto cosa è successo in Grecia con l'arrivo della Troica quindi non è vero che ci danno dei soldini senza niente in cambio e quindi è giusto che ci sia un passaggio soprattutto poi parlando di risorse il governo Conte aveva annunciato i 400 miliardi anche che dovranno servire per cassa integrazione a pioggia tutti ma non ne abbiamo visti ci sono 70 cantieri pronti a partire ma anche questi non sono partiti a metà maggio sono stati appunto annunciati anche degli altri provvedimenti che non sono arrivati il recovery fund adesso si parla di qua fa qualche anno ma guarda caso viene riconvertito con un piano per il sud perché anche questo è stato annunciato insomma c'è molta confusione nel frattempo l'unico dato certo e lo dico per chi ci ascolta è che il prossimo giugno lo Stato dovrà interettare circa 20 miliardi di tasse che non sono state tolte ai piccoli comuni quindi le tassazioni è rimasta questo è l'unico dato certo mentre le risorse per piccole e medie imprese che necessitano di ripartire subito non nel 2021 o nel 2030 con un piano a lungo termine da parte dell'Unione Europea quella è l'esigenza di tutti noi quindi il BES però in realtà ha chiaramente delle contropartite perché poi dopo lo sappiamo tutti che una parte di questi fondi vengono spesi nella parte sanitaria ma è una cifra già irrisoria per poter far ripartire comunque il sistema nazionale figuriamoci poi laddove in quelle regioni dove c'è stato poi un impatto maggiore legato al coronavirus senza che la Lombardia si è fatta da sola si è fatto l'accordo con i medici gli infermieri i sindacati e i soldini nel piano Marsha per dare gli stipendi in busta paga se li è messi questo è poi quello che bisogna fare se arrivassero dei soldi in più per amplificare per migliorare ad esempio la rete territoriale della medicina lombarda credo che non farebbero schifo no? assolutamente no ma certo si mancherebbe altro fino a salita un diritto di tutti volevo capire a parte il fatto che faccio una battuta rapidissima sostanzialmente quello che voleva Renzi a suo tempo cioè creare questo asse con il centro quindi anche Forza Italia eccetera è successo ma Renzi non è più nel PD e quindi fuori tempo massimo però vabbè a parte quello Di Marco una cosa si dice dicono che Conte debba andare in Europa a cercare di fare in modo che questa cosa diventi più ancora emergenziale quindi si sblocchino prima i soldi del recovery fund piuttosto che aspettare che tutti i parlamenti li approvino e che tutto quello che è la burocrazia anche europea arrivi a dare il via libera probabilmente a metà del 2021 in realtà noi i soldi avevamo bisogno adesso in questo senso voi state cercando di premere con il Presidente del Consiglio perché prenda il primo volo possibile vada a fare quello che chiede e chiediamo tutti insomma cioè far arrivare i soldi immediatamente perché se no ma questo è ovvio questo il Presidente Conte penso che lo dica già da parecchie settimane che l'appuntamento più importante che abbiamo è quello con l'Europa e noi non siamo diciamo sono stati fatti però adesso il 18 mi sembra che ci sia il Consiglio Europeo è l'unica data possibile per fare qualcosa di quel tipo però se va là senza il coltello tra i denti arriviamo a giugno 2021 sereni Sì questo è vero poi sono ovviamente d'accordo volevo anche dire però alla collega Scurati che parlava di piano Marshall di Regione Lombardia è vero che si parla di 3 miliardi di euro ma di questi 3 miliardi di euro solo 500 sono stati immessi in questo momento diciamo nell'economia lombarda i prossimi 2 miliardi e mezzo li vedremo nell'anno prossimo quindi non è che quando Regione Lombardia sposta degli investimenti tanto gli ha messi l'anno prossimo vanno bene e quando lo fanno altri enti altre istituzioni non va bene bisognerebbe avere un approccio più costruttivo e più obiettivo detto questo io condivido il fatto che il Presidente Conte debba assolutamente chiedere uno sforzo maggiore all'Europa e debba fare in modo di far arrivare questi fondi nel più breve tempo possibile nella nostra economia nella nostra economia reale soprattutto perché ne abbiamo bisogno appunto come diceva la collega Scurati come diceva il Presidente Conte per far ripartire il nostro paese per investire in nuove opere in quelle opere che magari sono già state progettate ma attendono lo stanziamento finale per poi essere cantierizzate noi su questo ci siamo sicuramente diamo il nostro contributo e ci auguriamo che vada a segno questo risultato però io non andrei comunque a denigrare quello che è questo risultato parziale perché parliamo di oltre 150 miliardi di euro su circa 750 e penso che nessuno poche settimane fa avrebbe mai potuto pensare a importi di questo livello per la nostra nazione bisogna dare anche atto al lavoro che è stato fatto e poi spingere per il meglio Di Marco scusami certo il problema è che se arrivano tra due anni sarà tardi per aiutare i settori che hanno bisogno Scurati aspetta mando la fascia e poi replichi tu ok a tra poco rimasta la tua domanda giusto risposto solamente Di Marco tocca alla Silvia Scurati che deve anche replicare credo sì parlavamo di grandi opere e di soldi e di soldi in realtà le grandi opere un anno fa c'era stato ricordiamo tutti lo sblocca cantieri c'era Toninelli adesso di Micheli ma in realtà lo sblocca cantieri che era stato anche finanziato perché i miliardi erano stati emessi a bilancio per una serie di grandi opere in realtà non sono partite quindi perché sono riavviati i cantieri è un anno che aspettiamo il tanto annunciato sblocca cantieri Conte quello dei grandi annunci delle conferenze stamp ma poi i risultati nel breve termine non li vediamo e allora ecco perché la Lega poi propone tutta una parte legata alla sblocratizzazione a revisione dei codici appalti ci sono opere che sono ferme perché mancano delle firme esempio Gronda di Genova l'abbiamo fatto un esempio anche l'altro giorno in discussione quindi bisogna andare anche a incidere sulle normativi che regolano ciò che devono agevolare i vari cantieri sui soldini io non posso però andare a indebitarmi con le banche i famosi 25 mila euro che molti piccoli imprenditori hanno dovuto magari richiedere alcuni alcuni sono stati concessi però il problema è che poi è sempre un indebitamento con le banche non sono risorse a fondo perduto ci sono alcune categorie alcune io come quarta commissione regione Lombardia le ho anche ricevute che continuano a protestare ci trovate nei blocchi precedenti tassisti gli NCC ma ci sono anche tutto il settore delle mense della ristorazione chi lavora nelle mense lavora anche sotto cooperativa non becca neanche 600 euro come fanno ad andare avanti mi hai dato un'idea ci colleghiamo anche con loro liquidità serve se avere liquidità servono soldi subito e immediati non ci sono allora adesso però cambiamo argomento perché mi è venuta in mente questa cosa da chiedervi oggi si è dimessa dalla presidenza della commissione d'inchiesta sulla sanità Patrizia Baffi su cui c'era stato questo caos questo polverone perché eletta coi voti del centrodestra nonostante facesse parte di tagliaviva che del centrosinistra adesso si azzera tutto si ricomincia da capo che cosa fate Di Marco parto da te avete un candidato unitario voi nelle opposizioni e se sì e non è più scandella chi è? ma intanto accogliamo positivamente questa notizia ringraziamo la consigliera Baffi per aver fatto un passo indietro evidentemente si è resa conto di aver fatto una scelta non proprio ponderata sufficientemente facendosi eleggere solo dalle forze dalle forze politiche ok questo è il passato il futuro sul futuro ovviamente penso che si possa rimettere in gioco la nostra partecipazione alla commissione d'inchiesta così come chiediamo da mesi e poi ovviamente penso che si avvieranno nei prossimi giorni nuove trattative per arrivare a un nome condiviso da parte di tutte le opposizioni però ovviamente la notizia di oggi dimostra che non ci sbagliavamo nei giorni passati a contestare quanto è successo ok Silvia Scurati era diventata la vostra candidata di tutte coloro in queste due settimane il dato di fatto è che il PD probabilmente non vuole non ha voluto la commissione d'inchiesta e mi dispiace perché anche le dimissioni dei colleghi dei 5 Stelle dimostrano che neanche i 5 Stelle voleva una commissione d'inchiesta è stato avviato un clima veramente orribile nei confronti della collega Baffi a cui va la mia solidarietà anche in quanto donna perché è stata veramente una cosa allucinante la collega Baffi che si era candidata come altri esponenti dell'opposizione anche il consigliere Usuelli conta uno in consiglio regionale eppure si era candidato è stata votata democraticamente con voto segreto e il clima che si è instaurato il giorno dopo vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente non va ma all'interno dell'opposizione stessa credo che dimettendosi vuol dire che loro stessi che volevano imporre un candidato e non farlo eleggere democraticamente la collega Baffi di Tagliaviva che non è della maggioranza quindi esponente di minoranza è stata eletta democraticamente dimettendosi evidentemente non hanno alcun interesse a fare la commissione d'inchiesta non mi sorprendo visto che in Emilia Romagna Bonaccini non l'ha neanche voluta quindi probabilmente è modus operandi però il problema è che tutte le polemiche che sono nate sulla questione sanitaria sono nate in Lombardia in Emilia Romagna mi sembra molto meno però io se voglio la commissione non mi dimetto lavoro beh sì però il presidente della commissione votato dalla maggioranza era un po' anomalo c'è qualcuno che promette qualcosa a nascondere volendo imporre un proprio presidente però era anche un po' anomalo era anomalo però forse la maggioranza è stata votata a voto segreto se voi sapete l'elenco di voto segreto sì però in realtà Scurati in realtà deve essere esponente della minoranza ma anche una sorta di scelta della minoranza che poi viene avallata dalla maggioranza il problema magari è la minoranza di Marco che invece di presentarne cinque doveva chiudere una trattativa facile sul nome e presentare un nome eh sì attenzione no cioè mettetevi d'accordo prima in Lombardia ci sono quattro cinque gruppi di opposizione però sappiamo tutti benissimo che i due gruppi più importanti che contano circa trenta consiglieri sono quelli quindi deve essere imposto il nome non votato è un'imposizione eh no sì certo è una spartizione è stata demonizzata dal giorno dopo veramente con delle questioni anche sessiste che abbiamo letto sui giornali vergognose veramente non degno di un consiglio comunque vedremo chi sarà il prossimo candidato ho il cuore aperto veramente io speriamo che sia un candidato unitario io non so di che cosa parla sui giornali e si diceva se c'è stato qualcosa io ovviamente mi dissocio quello che posso dire è che in regione Lombardia i due gruppi maggiori sono quelli del PD e del Movimento 5 Stelle hanno espresso dei nominativi che non sono voluti non sono non sono stati accettati dal partito democratico l'Italia viva che ha e uno di più si è autocandidato comunque questo è il passato non ci interessa più io volevo sapere Di Marco volevo sapere il futuro trovatevi un candidato unitario così fate questa commissione di inchiesta visto che l'avete chiesta ha ragione la Scurati se l'avete chiesta fatela devo salutarvi perché dobbiamo toccare un'altra categoria danneggiata e non aiutata che quella degli artisti buoni perché tanto non vi si sente più dobbiamo parlare degli artisti del mondo dello spettacolo perché anche quella è una categoria che ha bisogno di sostegno e parliamo di quella dopo la pubblicità grazie Di Marco grazie a Scurati a presto buon lavoro Allora lasciamo i politici basta facciamo un po' di spettacolo un po' di teatro anche di giornalismo con Sabina Negri attrice giornalista bentornata tra di noi tu sei un ospite frequente a TV Click che però purtroppo con il Covid con l'emergenza Covid abbiamo sospeso peraltro tu sei anche di Codogno quindi insomma questa cosa l'hai vissuta anche da vicino insomma tantissimo infatti appena è scopiato questo caso mi hanno chiamata ho fatto un articolo per Repubblica e ho scritto liberateli subito poi ho capito invece che il fatto di non averli liberati è stata la salvezza di tantissima gente dovevano chiudere anche noi prima lo so che è una cosa crudele da dire però è una cosa che corrisponde a verità è certo allora la Lombardia è sicuramente stata molto criticata sia la Lombardia sia Milano per la gestione che poi dirà la storia gli errori che sono stati fatti ci saranno delle commissioni di inchiesta se ci sono stati degli errori politici chiaramente si analizzeranno però tu dal punto di vista artistico hai realizzato una riedizione in qualche modo dell'inno di Milano proprio per difendere il capoluogo di Lombardo Milano e la Lombardia giusto? questa è l'idea sì Adriana perché io mi ero stufata guarda perché era iniziato addirittura ed è iniziato un clima d'odio dove dicono la supponenza dei milanesi la supponenza dei lombardi ma non è vero noi lombardi e i milanesi in particolare sono sempre stati ospitali con tutti perché voglio dire tante persone sono venute qui sono state seguite bene dalla sanità sono state accolte anzi ti dirò che quando c'è una discriminazione su qualcuno abbiamo visto la gente in piazza la gente reclamare la gente accogliere e accettare quindi a me non sta bene che parlino bene di una città così accogliente va bene certo c'è un po' questa cosa del milanesi ma è un modo di dire un modo di scherzare perché nella realtà io non ho visto discriminazioni ecco allora vediamola vediamo come parte il tuo video poi lo commentiamo vediamo la partenza in Gran Milano Porta Cicca e la buvisa Sant'Ambresco il suo campano e la nebbia che bellezza la va già per il polmo e con fiocca che gioia che il parco e il bastion per scia senza andare al motarun fa ragazze per più e fanno in giotto un burlun e la poccia poccia al paredon se sa chi ha parlato di Milano se fa minga fa diga con tanti argomenti per i man nel discorso e il scarliga sabina chi sono le altre voci a parte la tua allora Simone Spreafico chissà la voce ha fatto anche gli adattamenti e Patricio ci siamo chiamati due o tre perché noi tre abbiamo iniziato a dire che cosa possiamo fare facciamo una canzone come la facciamo facciamola in dialetto finalmente avete fatto bene senti ma gli artisti come se la passano in questo periodo perché c'è un'altra categoria un altro mondo con tre mesi senza lavorare no guarda se la passano malissimo anche perché c'è stato un momento veramente di discriminazione pensa che noi eravamo stavamo facendo io Bebostorti Simone Spreafico e Patrizia Rossi uno spettacolo su Gianni Vrera e a un certo punto ci hanno chiuso le porte in faccia domenica pomeriggi dovevamo fare la pomeridiana e hanno detto tutto tornatevene a casa noi non sappiamo se questa piazza la recupereremo non abbiamo più saputo niente c'era il pubblico fuori che aveva voglia di viverlo il teatro forse non avevano neanche più caustura in quel momento eppure ci hanno mandati tutti a casa e da lì è stato un silenzio assoluto aspetta che c'è la baby bianca ecco c'è baby bianca c'è la baby bianca vai vai ecco questa è la tua bambina così l'abbiamo fatta vedere ma le metti la mascherina ma non ha sei anni tua figlia no no tre anni e mezzo quasi quattro però quello era il periodo proprio rosso ero andata a fare la spesa al supermercato e ho detto senti non si sa mai per precauzione hai fatto bene hai fatto bene e lei mi è scappata via però mi è scappata di mano ha iniziato a correre correre e poi io l'ho chiamata e lei ha alzato la mano per salutarmi e mi è sembrata la cosa più bella perché è vita cioè è un bambino che corre in un prato certo senti allora dicevamo io dai dati che ho sono circa 380 mila le persone legate al mondo dello spettacolo e della cultura che in Italia non stanno lavorando da tre mesi c'è Sandra Milo che si è incatenata a Roma e poi è stata ricevuta da Conte dal punto di vista degli aiuti economici del governo come siete messi? al momento mi sembra che siano un po' dormienti ecco diciamo così per usare un termine un po' ma solito perché cioè non c'è niente di concreto anche Sandra ha fatto bene nel senso però è stata ricevuta e dopodiché non è successo niente perché poi quando uno parla dello spettacolo appunto pensa Sandra Milo ma io invece penso a tutte le maestranze penso ai tecnici penso al datore Lucci penso al direttore della fotografia c'è tutta gente che ha famiglia che sta aspettando poi è vero che Conte è uscito con questa espressione che ha dato tanto fastidio a quasi tutti i colleghi che dice il divertimento però ha aggiunto anche per fortuna la passione perché poi il nostro lavoro non è solo divertimento anzi le accademie devo dire da chi le ha frequentate è tutt'altro che divertente è una cosa massacrante è una cosa dove quando esci insomma devi fare anche Joyce non è che ti metti a fare il clown o con tutto rispetto che ho per il clown però scusami Sabina tu non avresti paura adesso a tornare sul palcoscenico a recitare col fatto della distanza no? perché chiaramente se reciti cioè noi quando lavoriamo possiamo stare distanti però chi recita non può dunque innanzitutto ci sono delle forme di spettacolo che vanno ricercate che potrebbero essere tipo noi facciamo spesso dei monologhi con musica e allora a questo punto possiamo tenere le distanze dipende dalla grandezza del palcoscenico dipende nella sala non avremo 300 spettatori su 306 ma dovremo accontentarci di 100 spettatori ma va benissimo così riduciamo gli spettacoli riduciamo i costi penalizziamoci però facciamoli poi Adriana io invito anche i cittadini di Milano di darci dei cortili dove poter fare le rappresentazioni all'aperto dove noi possiamo fare che tutti collaborassero per stare in piedi anche perché il nostro è un paese di artisti l'economia la finanza e tutto quello che si è attaccato dopo in realtà vengono a Milano vengono in Italia per vedere la storia dell'arte per vedere il teatro per vedere le biblioteche la letteratura le mostre noi questo siamo essenzialmente noi siamo arte pane e arte e quindi se ci restituissero questo bisogno che noi abbiamo di lavorare anche i privati e i cittadini che si mettessero a disposizione dell'arte visto che tutti siamo un po' artisti certo quindi luoghi pubblici luoghi all'aperto dove poter ricominciare Jacopo ma io non ho capito una cosa ma voi i famosi 600 euro qualcuno li ha visti no nel senso perché molti molti mi hanno detto del vostro mondo che non li ha presi sostanzialmente no no tantissimi non li ha presi perché c'erano tutta una serie di cose di canoni da rispettare per esempio noi siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro e io mi occupo anche di giornalismo fortunatamente questo mi ha tenuto in piedi però il nostro Simone Spreafico che è il nostro ritarrista per esempio fa solo quello e dice io sono dipendente da un'associazione senza scopo di lucro per cui io non posso dimostrare grandi redditi per cui è stato penalizzato dopodiché c'erano dentro i notai ma io per l'amor del cielo tanto di cappello sui notai però insomma magari non ne hanno bisogno è quello che abbiamo detto anche noi l'abbiamo detto l'abbiamo fatto l'appello anche noi che i 600 euro i notai forse non era il caso di darglieli non ho niente contro i notai anzi magari purtroppo un giorno ci avrò pure bisogno del notaio però sono d'accordo con te però non è proprio una categoria che ha bisogno ma come il buono babysitter è uscito il giorno dopo gente che aveva bisogno perché noi bambini li abbiamo a casa da scuola io adesso chiaramente mi devo sacrificare e pagare la babysitter un sacco di ore eccetera eccetera io non l'ho chiesto perché ho un po' di pudore facendo anche la giornalista però quanti i miei colleghi l'hanno chiesto e non ne hanno bisogno magari non vanno cioè è stato fatto tutto un po' forse un po' troppo velocemente un po' troppo superficialmente senza come se non conoscessero la realtà contingente del mondo hai capito? è come se stessi lì a teorizzare è perfetto però teorizzi poi sull'economia e sulla vita dell'altro senti ma tu quindi a questo punto non hai riesci con il tuo staff a fare dei progetti dei programmi o siete proprio fermi? allora noi avevamo avevamo deciso di debuttare con uno spettacolo su Angelo Fausto Coppi l'eroe nato contadino che erano i suoi 60 anni eravamo felicissimi di poter debuttare in Piemonte poi in Lombardia purtroppo si è fermato tutto si è fermato tutto e noi non siamo minimamente in condizione di andare avanti perché? perché non c'è stata la possibilità dopodiché adesso se fanno delle stagioni all'aperto vediamo come riuscire a mettere insieme però la vedo dura nel senso che riprendere uno spettacolo come Brera che è già in scena ok fai un ripasso ma fare degli spettacoli nuovi cioè entrare nel discorso produttivo è difficilissimo perché non sai che ritorno avrai neanche ne avrai vabbè speriamo il tuo appello di trovare dei cortili dei luoghi magari dei luoghi belli che siano anche piacevoli da guardare dove far ripartire il teatro come intrattenimento e come forma d'arte è un appello che io condivido insomma speriamo che bisognerebbe farlo anche al sindaco se il sindaco vi dà una mano la cosa si può anche può anche prendere più piede e lo so però il signor sindaco adesso farà una stagione cheatrale al castello sforzesco sta a sentire io non ci partecipo perché a un certo punto non ci pagano lo spettacolo e quindi dobbiamo quindi nessuno di noi ha un cachet e dobbiamo basarci sul pubblico il pubblico adesso è terrorizzato e comunque abbiamo fatto una politica di terrorismo anziché educare la gente l'abbiamo prima abbiamo detto andiamo a bere l'aperitivo e poi l'abbiamo terrorizzata ma io mi assumo la responsabilità quanti e loro abbiamo fatto tutti questo è successo quindi io vado là occupo dieci persone a lavorare magari mi viene il pubblico esiguo che pagano è chiaro certo hai capito cosa succede per cui bisognerebbe anche dare degli incentivi ma non solo ai teatri anche a noi che siamo povere associazioni io lavoro in carcere io tutto quello che devo fare a livello di solidarietà sociale lo faccio se ne pensano fare un po' anche gli altri chiaro devo salutarti devo salutarti perché sono già oltre il tempo prestabilito ci spero ci vedremo presto in bocca al lupo grazie per l'inno per Milano insomma di buon auspicio per tutti saluta baby bianca grazie Milano in Gran Milano ciao Sabina pubblicità allora rieccoci in diretta lo sapevo ho visto no scusa non ce l'ho mai adesso e ho comprato anche l'alcol nuovo benissimo no ti prego perché io ho detto alla regia questi 30 secondi dateceli ho detto alla regia chiudo con la mascherina come al solito e vedo Jacopo scomparire al suo posto è andato a prenderla non puoi farla compressa eccoci questo è il momento alto di televisione si si va bene lo mettiamo su youtube va bene grazie a tutti buonanotte buonanotte ci vediamo domenica e io e te lunedì grazie alla regia buonanotte ciao ciao